Buongiorno a tutti, quasi buon pomeriggio. In questo momento vorremmo discutere di, questo è l'OBE, l'Osservatorio per il Brand Entertainment, e quello che abbiamo cercato di fare come OBE è di capire l'efficacia di cui parliamo. Quindi cercheremo di fare molto velocemente, senza annoiarci dieci minuti, di una presentazione un po' quantitativa in qualche modo. Parliamo di brand integration e original production televisive. Anche se siamo verso la fine, mi piace comunque dire due parole di che cosa si tratta, non si sa mai, magari c'è anche qualche non esperto in collegamento a cui potrebbe sfuggire il senso. Brand integration vuol dire prendo il mio prodotto e in qualche modo gioco all'interno di un programma preesistente, piuttosto che original production, invece non trovo un programma preesistente che mi piace, ma lo faccio io e lo mando in tv. Questa è la differenza tra i due. Cosa abbiamo fatto? Come OBE abbiamo analizzato i soliti mille casi, che se non analizzi mille casi non sai nessuno, questo però non è particolarmente innovativo, la cosa invece innovativa è il fatto di aver analizzato 15 brand diverse. Cioè quello che cerchiamo di fare è raccontare le regole generali. Quello che abbiamo fatto è, durante il periodo che era pre-covid, quindi abbiamo guardato cosa c'era in tv nell'inverno, tra l'autunno e l'inverno precedenti, abbiamo preso quelle brand, abbiamo preso il contenitore in cui si trovavano e le abbiamo analizzate, abbiamo chiesto alle persone di dare delle valutazioni, secondo tante variabili e oggi ci raccontiamo quelle che ci sono, quelle che in realtà informano di più e ci fanno capire se la cosa funziona oppure no. Prima macro key findings, che non è che sia particolarmente intelligente, però lo diciamo lo stesso perché è tautologico, ma perché no? L'80% delle persone che intervistiamo quando, tra quelle che hanno visto i, voi adesso qui potete leggere quelli che sono, scopriamo quelli che sono i programmi. Alcuni sono noti, altri sono meno noti se non aveste visto appunto il programma, perché si tratta di original production e non tutti hanno avuto occasione di incontrare le original production. Questo genere di attività è un'attività che piace, cioè quando intervisti qualcuno ovviamente e gli chiedi tu hai visto questo genere di programma, lui ti dice quelli che ti dicono di sì, ti dicono anche mi piace, anche perché, quindi questo vuol dire che siamo all'interno di un contesto favorevole in cui l'attenzione, i chakra sono aperti in modo positivo, cioè non è che sono tanti quelli che guardano un programma perché gli fa schifo e devono scrivere su Facebook che gli fa schifo, qualcuno c'è e sta emergendo, però in generale se tu guardi un programma è perché ti piace, e quindi siamo all'interno di un'atmosfera di positività. Non vi raccontiamo le brand perché non è il caso, magari qualcuna la potete anche desumere perché sull'original production, se prendete Google, o se vi ricordate, ritrovate anche qual era la brand, però stiamo parlando di telefonia, stiamo parlando della colazione, forse era caffè, stiamo parlando di portare i pacchi a casa, due o tre aziende vi possono venire in mente, stiamo parlando di entertainment, stiamo parlando di beauty, stiamo parlando di banking, finance, stiamo parlando di supermercati. Quindi abbiamo analizzato tante categorie diverse, perché? Bene, perché nella diversità sta la regola generale che ci stiamo cercando di trovare. Primo, o secondo grande risultato che scopriamo è che il ricordo pubblicitario, o ricordo della brand, in questo caso sono la stessa cosa, è decisamente elevato. Nel caso della brand integration abbiamo un ricordo medio del 24%, nel caso dell'original production abbiamo un ricordo medio del 53%. La forma gaussiana che vedete è per indicare che in realtà, altro elemento particolarmente rilevante, le original production hanno una variabilità piuttosto limitata, grandi risultati e poca variabilità. Le brand integration invece hanno un risultato comunque molto ampio, 24%, però una variabilità molto ampia che merita una trattazione, perché noi sulla variabilità capiamo come fare bene il nostro mestiere. 24, 53, ma è tanto e poco. Diciamo subito che ci tocca fare questo parallelismo, perché a qualcosa ci dobbiamo paragonare, quindi introduciamo alla mia sinistra un grafico che è come cresce normalmente il ricordo pubblicitario all'interno di uno spot televisivo, quindi stiamo confrontando uno spot televisivo con original production e brand integration. Forse non si deve fare, però facciamolo lo stesso. Poi capiamo quali sono i pregi e i difetti del confronto. Quindi serve tanta pressione, le colonline grigie che sono i GRP, l'unità di misura con cui gli esperti che siamo noi ragioniamo solitamente, serve tanta pressione per raggiungere livelli di ricordo pubblicitario che superino il 50%. È ovvio che stiamo parlando di universi diversi, di fatti non stiamo parlando di efficienza, stiamo parlando di efficacia. Cioè l'universo dello spot va su tante persone. L'original production va su un numero più limitato di persone, la brand integration forse sta nel mezzo. Sono tre popolazioni diverse, ma certamente original production e brand integration sono molto efficaci. Cioè le persone che contattiamo si ricordano quello che stiamo facendo. E questa è una certezza. Poi vediamo se abbiamo speso il giusto e se era veramente quello che volevamo fare, cioè era la nostra strategia e non era una tattica. Forse se era una tattica era sbagliata, se la strategia era la cosa giusta. Il ricordo medio, ci siamo detti, è del 53% nell'original production e la varianza è limitata. La varianza è limitata, quindi la prossima la possiamo quasi scommettere. Il ricordo medio invece della brand integration è 24%, ma la varianza è elevata. La varianza è elevata vuol dire che ci dobbiamo ragionare. Il punto di ricordo pubblicitario, il GRP dello spot televisivo, tendenzialmente, prima l'avevamo visto come GRP, parliamo di soldi che è più facile, mediamente servono circa 100.000 euro per guadagnare un punto di ricordo pubblicitario. Quindi, insomma, questo vuol dire che 24% piuttosto che 53% sono tanto se erano quelli gli universi che volevo colpire. Se erano quelli, perché in realtà la copertura è limitata per brand integration e original production, sono estremamente efficace su un universo più limitato. E quindi dipende da quello che erano i miei obiettivi e quella che era, quindi la strategia iniziale. Proviamo a spiegarci meglio con questo tipo di grafico. Asse orizzontale, dimensione del target, asse verticale, dimensione emotiva o passione. Cioè, se ovviamente il mio target di comunicazione è molto ampio, ma non esiste una dimensione emotiva, una passione particolare che voglio navigare per coinvolgere il mio target, allora forse lo spot pubblicitario è sufficiente. Però, se io invece identifico che il mio target ha una passione, è appassionato per la musica, è appassionato per gli unicorni, è appassionato per qualcosa per cui posso costruire o entrare all'interno di un contenuto televisivo, forse la cosa migliore che posso fare è proprio original production o brand integration. Perché in quel caso l'efficacia è estremamente forte su una popolazione che è quella che se ho deciso che è la mia, perché ha le passioni che magari la mia marca ha, che la mia brand ha, o che io voglio costruire perché voglio che ce le abbia, allora questa è la scelta giusta. Quindi dipende, è una questione di strategia. Estremamente efficace, efficiente, se è la mia strategia. Ok, prima c'eravamo detti 24%. 24% è tanto, però potevo fare 5, potevo fare 50, e io voglio capire quando il mio ricordo è 5 o quando è 50, perché qui ci si gioca il 10%, il 1000% dell'efficacia. Prima variabile che abbiamo preso in considerazione per spiegare perché faccio 5, perché faccio 50, è lo spazio occupato. In che senso? Ovviamente abbiamo visto che ci sono tante magari integrazioni all'interno di programmi televisivi esistenti dove le mie performance possono dipendere da quanti in realtà puntate io occupo e per quanto spazio all'interno della puntata sono presente. Quanto più sono presente, quanto più ricordo pubblicitario ovviamente avrò. Ora, questo è il risultato che abbiamo osservato. Quindi in verticale vedete il ricordo pubblicitario, in orizzontale è lo spazio occupato che abbiamo determinato precedentemente. Vedete come in realtà ci sia una forte relazione tra ricordo pubblicitario e spazio occupato. Non ci spaventiamo per quel numero che è l'R4 071, cioè vuol dire che il massimo di quel numero è 1, se fosse 1 tutti i pallini, tutte le aziende sarebbero lungo la stessa linea, ci avviciniamo a 1, vuol dire che il ricordo pubblicitario dipende molto da quanto spazio occupo, quindi in quante trasmissioni sono andate e per quanto tempo. Awareness fondamentalmente. Quindi devo occupare quanto più spazio possibile. Però non è solo una questione di spazio occupato, se no sarebbe un problema meramente economico. Ci sono altre variabili che abbiamo trovato particolarmente significative. L'integrazione in particolare. Non è alto come prima l'R4, però è abbastanza alto. Integrazione vuol dire che cavolo, però dentro il programma ci sono giusto, cioè io sto lì e faccio parte del discorso, non sono stato buttato in modo casuale che quasi sembra un placement, ma sono coerente con quella che è la narrazione del programma. In questo caso scopriamo che l'integrazione è un'altra variabile particolarmente rilevante. Poi c'è un'altra variabile che è l'unicità. L'unicità vuol dire che potevo essere solo io all'interno di quel contesto e nessun altro. L'unicità in realtà non è un R4 apparentemente molto elevato, però in realtà deriva dal fatto che stiamo misurando categorie merceologiche diverse. È molto più facile essere unico se i miei competitor, se io porto pacchi a casa magari ho due o tre competitor, se io sono una birra magari di competitor ne ho 40. Quindi l'unicità dipende anche molto dalla categoria merceologica di riferimento. Togliamo gli outlier e stiamo su categorie merceologiche che hanno un'uguale numerica di competitor e scopriamo che l'unicità, cavolo, anche l'unicità è estremamente importante. Quindi, ok, devo essere visibile, però devo essere integrato e se poi riesco anche a essere unico, non mi confonderanno neanche con un competitor e porterò avanti uno storytelling nel tempo. Fin qui abbiamo parlato di awareness, però l'awareness è un bel indicatore, però io sinceramente la maggior parte dei marketing preferiscono l'intention to buy, è più vicino alle vendite e quindi alle performance. L'intention to buy, vediamo se le regole rimangono, se c'è qualcos'altro da dire. Vediamo che in realtà il ricordo pubblicitario e l'intention to buy non sono mica così tanto correlati, non è che questa relazione sia spiegata tanto bene, sembra un po' una nuvola. Questo vuol dire che perché esista un gesto che è quello dell'acquisto non basta avere ricordo pubblicitario. Quando andiamo sull'intention to buy le cose si complicano. Le cose si complicano e cavolo, viene fuori l'integration. L'integration che prima era importante ma non decisiva, qui è chiave. Cioè la massima correlazione in questo caso è tra integration e intention to buy. Se io voglio vendere, ovvio che devo essere visibile, ma non basta. È condizione necessaria, ma non sufficiente. Io devo essere assolutamente integrato all'interno di uno storytelling incoerente. In questo grafico è lo stesso di prima, vedete più aziende, perché abbiamo ributtato dentro quelle original production che abbiamo visto che avevano risultati sempre molto alti, però questo ci dice che in realtà questa correlazione è ancora più forte. Quindi integration e intention to buy è la chiave per i nostri discorsi. La stessa cosa per quanto riguarda unicità e intention to buy. Quindi quando si tratta di intention to buy, unicità e integration diventano estremamente rilevanti. Senza queste due condizioni non avremo l'atto che ci piace di più, che è quello dell'acquisto. Quindi arrivando in conclusione abbiamo trovato la formula magica, che non è questa qui, questa è la formula magica più incollata della storia del marketing. Però questo per ricordarci che all'interno di questa presentazione ci sono tante slide, poi quando la riguarderete, avrete il tempo di riguardarla, vi accorgerete che è molto utile per spiegare a noi stessi e ai nostri clienti perché funziona. Perché questo tipo di attività va fatta con criterio e con intelligenza, deve essere una cosa strategica, deve essere perseguita nel lungo termine, ma questa è un'attività che paga. Però questa formula non andava bene, mettiamo la nostra. Quindi abbiamo capito che il ricordo è funzione dello spazio occupato. Voglio avere ricordo pubblicitario, compro quanto più spazio possibile. Quindi non sono solo all'inizio del programma, sono all'inizio, sono a metà, sono alla fine, perché poi i telespettatori sono anche infedeli e passano da un programma all'altro. Quindi è meglio essere presenti in più momenti. Per quanto invece riguarda l'intention to buy, non basta. In quel caso le variabili fondamentali sono l'integrazione e l'unicità. Il ricordo è alla base, ovviamente se non ce l'ho non esiste niente, ma non basta. Bisogna essere integrati e possibilmente avere una relazione unica con quel contesto. L'unicità è estremamente importante, l'unicità è difficile, soprattutto per categorie merceologiche molto ampie. L'unicità si costruisce nel lungo termine, l'unicità dipende dall'heritage della brand, ma può essere anche costruita ex novo, ma l'errore che non bisogna fare è andare a spizziche e bocconi, buttarsi su una... oggi faccio musica, domani faccio cucina, poi mi invento gli unicorni, eccetera eccetera. In questo caso non acquisirò, oltre a non essere... magari sarò integrato, ma disintegrato nel tempo e quindi non unico. Però abbiamo capito che fortunatamente siamo all'interno di un contesto che funziona e quindi siamo molto felici, energizzati dal fatto che stiamo facendo un lavoro importante. Dobbiamo farlo molto bene, c'è grande variabilità e per fortuna perché ci pagano per passare da 5 a 50 e così sarà anche per l'anno a venire. Questo è quanto? 17 secondi? Devo parlare per 15? 14? No? Ok. Grazie a tutti.